Nessun accenno alla corresponsabilità delle vittime. L'indirizzo della nuova sentenza del Tribunale dell'Aquila fa ben sperare per l'appello della sentenza shock di due mesi fa del giudice Croci per il crollo di via Campo di Fossa. La sentenza emmessa dal giudice Baldovino Desenzi, che ha sostituito Croci nel ruolo civile, riguarda il risarcimento danni alla famiglia di Luciana Pia Capuano, 21enne di San Giovanni Rotondo, che perse la vita nel crollo della casa dello studente nel 2009. Per la sua morte sono stati condannati al risarcimento per il 60% la regione Abruzzo, proprietaria dello stabile, e l'azienda del diritto agli studi universitari Azzu, che gestiva lo studentato. Il restante 40% sarà carico dei tecnici che a vario titolo si sono occupati dei lavori di ristrutturazione e collaudo dell'edificio, gli ingegneri Berardino Pace, Pietro Centofanti, Tancredi Rossicone e Pietro Sebastiani. La responsabilità dei quattro tecnici era già stata riconosciuta dal Tribunale dell'Aquila in passato e confermata sia in appello, con le stesse argomentazioni del primo grado, sia in Cassazione, nel 2016. La sentenza invece su cui ci siamo mossi e ha reagito questa comunità, diventando anche un emblema, un simbolo, in tutta Italia, come sapete hanno reagito anche i comitati delle vittime, ha introdotto, mediante il risarcimento economico, un concorso di colpa che va a ferire anche le vittime e quella sentenza è lì, non è stata affatto ribaltata, dovrà seguire il suo iter. Ci auguriamo che venga appunto, che nella fase successiva e quindi in appello, che si sia rispettosi del dramma che hanno vissuto le vittime, che non sono state affatto in caute e che appunto hanno subito quello che è stato il terremoto del 2009 e quello che c'è stato in questa città. La sentenza firmata da Desenzi cita una norma che prevede che il proprietario di un edificio risponda dei danni causati a terzi dalla rovina dello stesso, poiché colui che dispone del potere materiale e giuridico di controllo e intervento sull'immobile è tenuto a rispondere dei danni che esso cagiona. Inoltre il potere di godimento attribuito alla DSU con disposizione di legge, peraltro con obbligo esplicito di manutenzione ordinaria e straordinaria, impone di estendere a tale ente la predetta responsabilità.